Davide contro Golia, metafora quanto mai abusata nel mondo sportivo, ma sempre attuale, ed è questo il caso. Sulla carta il Cortina è nettamente più forte di Varese e i pronostici per la Supercoppa del 16 settembre parlano chiaro. L'unico giudice però è il campo, e in 60 minuti di una partita secca tutto può succedere. L'ultima amichevole con il Fassa ha certificato che i Mastini non sono poi così distanti dal livello dell'Alps. La differenza sta soprattutto nella velocità di esecuzione delle giocate, aspetto su cui i gialloneri pagano Dazio. I Mastini compensano con l'agonismo, la fame e la voglia di dimostrare di poter competere anche contro una corazzata del calibro del Cortina. Gli oltre 300 tifosi al seguito faranno arresto, e a prescindere da come andrà, Varese è pronta per una grande serata di hockey.